Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, questo credo che sia uno dei video più complicati da fare dei video più difficili, dei video più lunghi perché sono tanti gli argomenti e rischio di dimenticare qualcosa ieri abbiamo assistito ad uno schifo, la prestazione della Juventus credo che questa partita qua sia stato uno dei punti più bassi degli ultimi dieci anni della Juve sia in termini di prestazione sia in termini di tutto ragazzi, di idea, di contenuto una partita veramente che ci ha svuotato a noi tifosi e vi faccio un invito ragazzi, noi siamo tutti nella stessa barca e siamo lì con l'acqua alla gola, è inutile che cerchiamo di annegarci a vicenda cerchiamo di sostenerci in una stagione che a mio parere sarà amara e avara di emozioni per cui ragazzi teniamo botta, insomma analizziamo quel che è successo ieri faccio un complimento ai tifosi che erano allo stadio, gran tifo a mio parere anche chi stava in altri settori ha detto che la Juve, i tifosi si facciavano veramente sentire quindi complimenti al tifo bianconero ieri in trasferta ci siamo fatti rispettare almeno sui dei ci belle sulla voce non possiamo dire altrettanto in campo quindi analizziamo questo Sampdoria-Juventus amaro e vi dico anche una cosa ragazzi qua non risparmierò critiche ad Allegri per cui se partite pervenuti dalla parte del bene a Allegri non c'entra mai un cazzo è colpa sempre degli altri vi dico già di andare oltre perché se non siete aperti minimamente a una discussione che possa essere costruttiva non dico io cioè non sono la classica persona che ha la verità in tasca e che ve la propina spacciandola appunto per verità assoluta tutt'altro spero anche di trovare qualcuno che magari abbia una critica nei miei confronti costruttiva che vada nel segno ok ed è inutile anche ragazzi la guerra tra di noi Allegriano, non Allegriano cioè la Juve sta andando di merda è uno dei maggiori responsabili all'allenatore c'è poco da girarci attorno ragazzi badate bene che io non sono un creator che critica a prescindere o in maniera pretestuosa Tizio Caio Semprunio io non ho antipatie e devo difendere la mia antipatia e quindi cerco il pretesto per attaccare assolutamente no io voglio molto bene a Massimiliano Allegri però anche voi credo che vogliate bene i vostri figli ai vostri cari ma quando i vostri cari e i vostri figli combinano delle cagate è normale che voi vi incazziate è normale che voi li riprendiate è normale che voi diciate loro stai facendo del male quindi guardate bene che io ripeto con il cuore in mano a Max Allegri per quello che ha dato alla Juve eccetera io li voglio bene li voglio bene non ho mai avuto parole durissime nei suoi confronti qualcuno sfocia anche sul personale spesso non è nel mio stile però quando Allegri è responsabile di una cattiva gestione della squadra o di prestazioni simili bisogna sottolinearlo bisogna avere l'onestà intellettuale per sottolineare ciò e per il bene della Juventus è bene che ne prendiamo tutti quanti atto di questa cosa perché altrimenti diventa una questione politica e non più di calcio e oggettiva prima di iniziare ragazzi ovviamente vi invito a iscrivervi al canale perché c'è da tribolare questa stagione almeno triboliamo insieme e ci spalleggiamo perché siamo troppo fragili a livello individuale meglio essere un bel collettivo una bella community che difende la Juventus dagli attacchi esterni ma allo stesso tempo ne faccia una discussione interna costruttiva mai distruttiva insomma ne vedremo delle belle ne vedremo delle belle ma anche delle brutte credo tante brutte però insomma e questo è il bello del calcio è l'altalena delle emozioni vi invito ragazzi inoltre a scaricare l'app OneFootball partner del canale youtube non solo ragazzi domani c'è una grande amichevole tra City e Barcellona un amichevole di grande importanza benefica e OneFootball la trasmetterà in app gratuitamente basta andare ragazzi nelle partite scegliere la partita in questo caso City no scusate Barcellona City e poi cliccate su guarda e sarà fruibile gratuitamente l'app è gratis trovate il link in descrizione ora torniamo a noi non so per neanche ragazzi da dove partire perché gli argomenti sono veramente tanti che il rischio di disperdere e di buttare tutto una mistura di argomenti e rischia anche di confondervi quindi parliamo della prestazione in generale ragazzi è stata una delle peggiori degli ultimi 10 anni e ve lo dice uno che per anni è stato abbonato che si è perso veramente poche partite il giorno che mi sono sposato e poche altre ok e quel giorno che mi sono sposato la Juve vinse a Bologna 2 a 0 l'anno scorso quindi capite bene che insomma io ne ho viste di partite ma quella di ieri a cui ho avuto il disonore o l'onore vedete un po' voi dipende dai punti di vista di assistere dal vivo è stata una delle peggiori partite della Juventus degli ultimi 10 anni per idee contenuto per tutto spettacolo atteggiamento inizio partita e post partita parliamo di Max Allegri delle sue parole in conferenza e post partita e pre partita io premetto che Allegri non lo ascolto più mi sono rotto un po' i coglioni in realtà di ascoltare le sue conferenze stampa perché al di là del contenuto ironico sempre un po' così cacciarone superficiale tira fuori qualche nome di chi giocherà e io mi accontento di quella roba là e vado oltre ma mi sono rotto le scatole perché ragazzi dopo 5 anni di Allegri nella prima parte insomma l'anno scorso quest'anno anche basta basta prendere effettivamente i nomi e basta punto non ci faccio una polemica sul tono eccetera però capisco che nel post partita sentirsi dire da Allegri che il calcio è semplice che basta passare la palla il compagno di squadra che Miretti torna indietro per difendere ed è una roba orribile oltretutto Miretti uno dei più positivi ieri in campo con Rovella ragazzi è normale che faccia cascare i coglioni anche al più santo di tutti cioè se Papa Francesco ti fasse la Juventus io credo che probabilmente oggi sarebbe lì a confessarsi perché la sera prima è imprecato come pochi cioè è giusto così è normale cioè ragazzi c'è poco da girarci attorno è normale che poi senti le parole di Allegri dopo una serata così ed è un po' come che voi facciate un bel taglio nella mano nel braccio e ci mettiate anche del sale del sale e magari anche una spremuta di pomodoro che con l'acidità non guasta poi ballate il can can probabilmente dal dolore ma quella è la sensazione nel sentire le parole post gara di Max Allegri parole che può risparmiarsi parole che può veramente risparmiare a tutti quanti noi perché dopo una sofferenza atroce di 90 minuti lui potrebbe francamente parlare in altri toni potrebbe spiegare e potrebbe anche smetterla di fare il superficialone di turno oltretutto ci liquida sempre come se fossimo degli asini fessi e questo è normale che a qualcuno possa dare fastidio io francamente non me la prendo perché io ripeto io giudico il contenuto del campo e se passiamo a quello adesso ne ho una per tutti partiamo dalla formazione caro Max io ti chiedo ma è il caso di continuare ad adattare gente a far ruoli non suoi cioè per esempio Locatelli mediana bassa ha sofferto col sassuolo che fai lo riproponi McKennie ha fatto una partita di merda col sassuolo visivamente non in forma già alla prima partita lo riproponi alla seconda ebbene così giocano McKennie e Rabiot dov'è la qualità in mezzo al campo ma si vede che la qualità in mezzo al campo manca ma perché perché basta mettere gente anche nel suo ruolo perché oltretutto mettiamo gente fuori ruolo Locatelli ieri ha fatto una fatica bestia ma non è solo colpa sua io credo che la colpa sia dell'intero reparto perché badate bene che impostare ieri alla Juventus potevamo metterci anche Pirlo probabilmente anche lui avrebbe avuto dei problemi perché il vero problema della Juventus sono i movimenti senza palla e le distanze tra un giocatore e l'altro cioè il modulo questo qua che sembra una sorta di poligono a 11-12 punte è una roba incredibile incredibile ragazzi è una roba inguardabile mi dite voi che caspita deve fare un giocatore lì in mezzo al campo come può impostare come può cercare di a quanto pare l'idea di Allegri era quella di dare ampiezza alla Sampdoria peccato che la Sampdoria ci abbia sguazzato in uno schifo simile ma ripeto oltretutto anche dagli esterni sono arrivati pochi attacchi pochi cross ne conto tre o quattro circa in tutta la partita e non va bene ma non va bene assolutamente un cazzo cioè mettere gente adatta ma metti caro Max Rovella in quel ruolo perché lo sa fare metti anche Miretti al posto di Mekenni perché io credo che con un centrocampo differente con Rovella Miretti e Locatelli mezzala sinistra secondo me le cose sarebbero state ben diverse ma ben diverse perché poi quei due ragazzi Miretti e Rovella hanno hanno le palle per chiedere sempre il pallone tra i piedi e per cercare di impostare qualche tram in mezzo al campo per cui il fatto di mettere gente non adatta in ruoli strani o cruciali o importanti è sempre stato ragazzi un grosso problema di Max Allegri il calcio è semplice sì ma se il calcio è semplice metti la gente che sa fare quel ruolo a fare quel ruolo e non a fare altri ruoli se io ero terzino sinistro per esempio io sono stato terzino sinistro ma se il mister dell'epoca dei giovanissimi degli allievi metteva lì a fare il centrocampista centrale è chiaro che non rendo perché? perché non è il ruolo mio io che sono abituato poi a ricevere palla con la linea esterna alle mie spalle mentre in mezzo al campo sei completamente sguarnito da questo punto di vista del riferimento laterale eccetera e fai fatica fai fatica per cui a ognuno il suo in primis in primis secondariamente ragazzi non c'è uno straccio di gioco non c'è uno straccio di gioco cioè io faccio fatica a dare sempre la responsabilità alla rosa e abbiamo la rosa scherza cioè quello va bene quando ci sono delle trame già provate in campo ma l'efficacia tecnica o la pulizia tecnica non è ai massimi livelli per cui tutto ciò che viene provato dall'allenatore non si può sviluppare in campo come trame eccetera perché perché si fa fatica perché si fa fatica perché tecnicamente non siamo adeguati a fare queste cose qua per il gioco della Juve quale ragazzi cioè vedete le trame vedete le triangolazioni vedete i movimenti senza palla cioè oliati non c'è alcuna meccanizzazione del ruolo è l'idea di ragionare con prendo Pogba prendo Di Maria prendo Paredes e delego a loro la responsabilità della vittoria perché sono di fuori classe perché hanno quel qualcosa in più ed è grazie a loro che vinciamo per me è una roba molto vecchia è una roba che paghiamo durante la stagione perché quando quei giocatori cruciali ti verranno a mancare poi non avrei dei riferimenti tattici o dei o delle idee su cui comunque ragionare vi faccio un esempio Pioli non ha fondato la sua fortuna l'anno scorso nella vittoria dello Scudetto sul punto sui più forti e loro mi tireranno fuori dai casini no ha creato prima un collettivo che esalta anche i più forti non possiamo partire col pensiero al contrario ovvero ci metto gente forte poi tanto loro sono bravi e si arrangiano non funziona così deve esserci anche qualche meccanica di gioco qualche idea qualche contenuto perché dal momento in cui magari devi sostituire uno dei più forti o ti mancano per infortunio chi entra non è uno sprovveduto totale lasciato al proprio destino in mezzo al campo ma è uno che sa entrare a partita in corso che sa incidere sa quel che deve fare in campo ieri ragazzi a centro campo che il problema ripeto cruciale perché lì non creiamo trame di gioco non siamo bravi nella rifinitura non siamo bravi a far filtro non siamo bravi un cazzo a centro campo ma non è colpa dei singoli perché i singoli messi in campo da Allegri non giocavano nei ruoli migliori e non potevano rendere in primis segundis non abbiamo delle trame di gioco delle triangolazioni dei sistemi che consentano al centro campo di sviluppare gioco punto avete visto qualche trama o qualche pattern lo ripeto sta parola che cos'è un pattern un'azione ripetuta nel tempo un'azione ripetuta nel tempo in genere è figlia dell'allenamento costante situazionale ieri ho visto una Juve che a livello di pattern eseguiva solamente una cosa il lancio dal terzino al difensore centrale all'esterno opposto punto cercando di sfruttare il lato debole lasciato dalla Samp che faceva una buona densità comunque in zona palla punto sono quelle le cose che io ho visto alla Juve e secondo voi può essere un'idea tattica il lancione sempre all'esterno che poi da dietro fai fatica perché giocare a 50 metri di distanza significa che hai dei difensori che dal punto di vista dei piedi devono avere delle capacità straordinarie perché su tre lanci due al massimo rischi di di perdere palla di lasciarla e poi anche qua puoi anche giocare con lancio su Vlaovic eccetera ma poi cazzo deve esserci il centrocampista che va sulla seconda palla e invece siamo tutti distanti uno dall'altro cioè capite è un dramma ragazzi nel senso io posso giocare anche a lancioni e scommetto sul fatto che Dusan Vlaovic mi stoppi e mi fermi la palla qualora faccia fatica c'è già il centrocampista supporto che sulla seconda palla non esiste questa roba qua non ce l'abbiamo siamo distanti tra i reparti non giochiamo bene al calcio e giochiamo con la palla lunga come si fa in terza categoria quando l'allenatore in crisi è una in crisi disperato vede i suoi e dice ragazzi facciamo una cosa abbiamo un po' di fisico ecco facciamo una cosa difensore sparacchia la palla là davanti attaccante se tu vuoi segnare vuoi fare qualcosa vai ferocemente sulla palla cerca di giocarla e di renderla pulita magari per qualche inserimento di qualche centrocampista oppure concludirete c'è questa roba qua ieri abbiamo fatto ragazzi ma per la serie A per i livelli tecnici che ha la Juventus secondo me si può fare molto di più poi ripeto il centrocampo è dei più forti quello di ieri no assolutamente no ma anche Corovello e Miretti non siamo tra i centrocampi più forti però porca puttana un'idea uno straccio d'idea un qualche fraseggio lì in mezzo al campo ragazzi un minimo un qualcosa non ho visto nulla non ho visto nulla un fraseggio una trama una mezzala che si sposta una triangolazione con l'esterno ma non lo so qualcosa tutti hanno dei meccanismi di gioco noi non ce li abbiamo noi buttiamo in campo la gente e diciamo ragazzi in bocca al lupo come si faceva veramente in guerra all'epoca quando dava il fucile in mano al contadino gli dicevi arrangiati non funziona così io ragazzi sono molto preoccupato e vi dico una cosa se le cose non cambiano entro la prima sosta e la juve inizia ad inanellare una serie di partite negative qua c'è da fare dei cambiamenti radicali altro che perché si può ancora salvare il salvabile alla sosta cioè se ora con la Roma perdiamo punti e nelle prossime gare non riusciamo ad essere lì in vetta io qualche ragionamento lo farei su Allegri ma lo farei perché il punto ragazzi cruciale della situazione non è il risultato perché il risultato può non arrivare ma se ci sono le idee e sono convinto che lavorandoci arriverò da A a B è un discorso qua non stanno arrivando i risultati e io non vedo alcun percorso che da A ci porta a B tutto qua la mia critica ad Allegri è quindi legata al suo intero lavoro Max non ci siamo quindi per il bene della Juve io credo che Max se non cambia registro è giusto che venga esonerato appunto io ve l'ho detto quest'anno non ci sono scuse io sono molto coerente con me stesso ve l'ho detto e l'anno scorso vi do io ho dato il beneficio del dubbio della serie magari l'anno prossimo con gli acquisti giusti ci lavora vedremo qualcosa di meglio abbiamo visto invece credo anche peggio dell'anno scorso ragazzi nella partita di ieri per cui se il trend continua così io credo che la Juventus debba intervenire già la prima sosta per salvare la stagione ma per fare anche un buon cammino in Champions perché io credo che questa squadra magari a centrocampo tecnicamente non è straordinaria ma con un altro allenatore con idee più fresche con dei meccanismi di gioco da provare eccetera possa portare questa Juventus a giocare meglio ad avere un gioco e ragazzi guardate qua questa immagine quanto è triste giochiamo a ferro di cavallo quasi non lo so come chiamarla non so come chiamarla sta cosa guardate il centrocampo quanto è inoperoso nella manovra nella costruzione perché è colpa dei singoli è anche colpa dell'allenatore che sul movimento senza palla non ci ha fatto nulla non ha sviluppato nulla ragazzi nulla 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 ragazzi mi piange il cuore nel vedere la Juve così è veramente straziante passiamo al ragomento Dusan Vlaovic qualcuno si è incazzato per la prestazione sua Vlaovic allora Vlaovic ragazzi è un gran finalizzatore se tutto ciò che c'è dietro non funziona è un problema per lui non è che è Cristiano Ronaldo che prende la palla tira fuori il gol il coniglio dal cilindro no non dobbiamo fare la cazzata la cosa buona che io dico della società è che quest'anno ha preso dei buoni giocatori per fare meglio ok e credo anche che sia doveroso da parte nostra chiedere molto molto di più sul rendimento eccetera però voglio aggiungere una cosa ieri Vlaovic ha toccato nove palloni è stato completamente isolato e ha la tendenza ad andare in fuorigioco è un errore personale nì nel senso lui deve avere l'intelligenza di capire anche quando può muoversi e quando il compagno è disposto a dargliela ma la cosa che Allegri invece deve fare è aiutare il ragazzo a comprendere quali sono i migliori momenti per sfruttare la profondità e deve allenare anche gli altri ragazzi centrocampisti o chi dovrebbe rifornire a Vlaovic di palloni a dargliela al momento giusto perché il fatto che il tempismo porti sempre Vlaovic ad essere in fuorigioco è anche figlio di meccanizzazioni inesistenti anche qua e badate bene che non demonizzo le palle lunghe basta e che non vedo nulla perché per esempio la palla lunga è spesso stata utilizzata sia da Allegri nella prima passata esperienza e da Antonio Conte Bonucci lanciava Pirlo lanciava in verticale però c'era un timing c'era una visione i giocatori sapevano che quando quel giocatore faceva quel movimento sapevano dove come quando dar la palla con Vlaovic io vedo avete l'idea vi è mai capitato di giocare in un calcio 8 in un calcio a 7 con gente che non conoscete quando siete lì davanti che dovete gestire il pallone non sapete mai con quale tempistica dare la palla perché non conoscete il compagno di squadra e spesso magari avete il timore se do la palla ora magari non ha la potenzialità di raggiungere quel pallone e perdiamo dei tempi di gioco se gliela do dopo rischio che magari gli avversari si compattino meglio e trovo cioè vi trovate con questi enigmi qua e non riuscite a cavarne il ragno dal buco stessa cosa vale per l'attacco della Juve mi pare che sia una cosa tutta improvvisata che non ci sia alcuno studio dietro sui movimenti sulla tempistica perché la tempistica nel calcio è tutto ricordo che quando il buon Zola venne nella squadra di paese in cui faceva il dirigente la prima cosa che disse fu ragazzi la differenza sapete qual è tra un giocatore di serie D o tra una squadra di serie D e una squadra di serie i tempi di gioco sono molto più rapidi in serie molto molto più rapidi i calciatori in campo ragionano bruciando tempi di gioco in senso buono in senso positivo noi in attacco non abbiamo intesa alcuna intesa non abbiamo meccanizzazioni e tempi di gioco li perdiamo spesso nei contropiedi condotti male eccetera per cui Vlaovic fa anche di movimenti giusti il punto è che se noi non studiamo le situazioni in cui il giocatore manda in profondità Vlaovic coi tempi giusti Vlaovic farà il movimento ma se il giocatore che ha la palla ragione in ritardo gliela dà dopo è sempre fuori gioco per cui io non incolpo Vlaovic che poverino si sbatte e si nervosisce per trovare dei corridoi e delle soluzioni là davanti mi nervosisco col fatto che non ci siano dei meccanismi oliati per servire al meglio il ragazzo questo è quindi io assolvo Vlaovic dalla critica dico anche che debba migliorare dal punto di vista sul piano dell'atteggiamento è troppo nervoso è troppo troppo nervoso lo si vede veramente ragazzi in campo sta sempre per esplodere credo che se lui cambia atteggiamento le cose comunque non migliorino senza la meccanizzazione del gioco un po' ragazzi non c'è una non c'è una situazione studiata mi viene da piangere l'unica azione bella l'ha fatta Miretti che recupera la palla fa quel passaggio in verticale lui era in fuorigioco ahimè ahimè e poi lui fa l'assist per Rabiot è stata veramente un peccato quell'azione ma ripeto è stata una cosa individuale non una non è stata un'azione ripetuta nel tempo per cui dici là c'è la mano dell'allenatore perché c'è la ripetizione di quella cosa e c'è una certa efficacia nello svolgerla no non so che altro aggiungere ragazzi aggiungetevelo cioè aggiungete voi gli argomenti magari ci facciamo una bella live stasera e do spazio ai vostri sfoghi perché ne avete anche bisogno ok un abbraccio ragazzi guardatevi la live reaction il post partita e ripeto un ringraziamento a mia moglie che è stata veramente ieri veramente che cazzo la fa fare poverina lei ha lavoro da presto stamattina è venuta là un caldo bestia al traffico sono fortunato ciao